Noi questo pareggio qui un pochino di rammarico ce lo lascia perché secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto parecchie situazioni dove potevamo segnare, abbiamo subito un calcio di rigore contro che mi piacerebbe rivedere per capire se c'è o non c'è, però detto questo bisogna poi dar merito a un Teramo che ha giocato con grande aggressività, con grande vehemenza, lo sapevamo, ci aspettavamo una partita così dal Teramo e li abbiamo affrontati bene. Purtroppo poi ci lascia il rammarico perché potevamo anche portare a casa tre punti secondo me per la prestazione che avevamo fatto. Noi siamo partiti una mezz'ora molto bene, poi ci siamo un pochino, forse probabilmente anche per merito del Teramo abbassati un po' troppo e siamo diventati un pochino leziosi nell'ultima quarto d'ora del primo tempo e questo ha permesso al Teramo di darci fastidio. Il secondo tempo poi invece dopo l'1-1 io pensavo di vincerla e ho cercato di cambiare qualcosa perché speravo di poter riuscire a fare un altro gol e quindi portare a casa tre punti che per noi sarebbero stati molto importanti. È mancata un pizzico di fortuna perché in 4-5 occasioni siamo andati vicinissimi al gol. Ricordo l'ultima occasione che è quella più recente, il tiro di Di Gennaro a tre minuti dalla fine è uscito di un niente dal palo. Ma io il Teramo la vedo una squadra in salute, una squadra che lotta, una squadra viva, una squadra che ha mentalità, allenata da un allenatore che stimo molto, una persona seria, una persona che lavora molto bene e quindi io credo che il Teramo abbia grandissime possibilità di salvezza. Grazie. Grazie. Grazie.